Il birro romagnolo non sarebbe, e te lo vedi, io ho visto i miei coetanei che pensano di essere giovani, scuterone, raiban, per un romagnolo il raiban è indispensabile, è come il catetere per mio nonno, ci vuole, ci vuole, mio nonno ce l'ha in ceramica, non può andare a nuotare se non va a fondo, però, quindi raiban, quello con le stanghette, con il ricciolo che ti si incancrenisce le orecchie, però, per la patacca questo è altro, poi se in scooter hai il raiban ci vuole la criniera che garrisca il vento, anche se sei pelato, e questo dà di fatto che ho visto tante di quella gente con dei gatti morti in testa, è vero, mettono il gatto, il casco, quando lo chiudono, gatto muore, si tiene poverino con le zampette sotto qui, però, quando lo squissi muore, è vero, ti rimangono i quattro rigoni qui di lato, capito, che sembra che ti abbia carezzato un nightmare, poi a scendere, il maschio romagnolo ha la camicia aperta, ha un oblò praticamente, aperto, quasi non ce l'ha la camicia, e dallo blò, cosa che io non posso fare, che sono asfaltato, pelo, pelo che esce, si riproduce da solo, ci spugli di pelo che crescono, e in mezzo al pelo, finessa massima, il catenone d'oro mascello, con Cristo in scala 1 a 2, senza crocefiscio, tanto è ingavagnato nel pelo, non cade mica, te lo senti il Cristo al scemaforo, proprio che urlo, slegami imbecille, lo capisci, che soffro, e allora vedi come siamo ridotti, siamo ridotti così, porca miseria, e lo facciamo per voi donne, per voi donne, noi uomini siamo disposti a delle bascesse incredibili, bascessissime proprio, la macchina, ci vuole la macchina grossa, il SUV, sono stati in montagna, dico, quest'estate, chissà, sarà bombato di SUV così, hanno ancora i 126, a Ravenna, che è una spianata di SUV, così, alcuni hanno anche la barra anti-buffalo, che a Ravenna c'è i bufali, il venerdì c'è la transumanza proprio di bufali, dai, poi te, fai di tutto per lei, quindi lavi la macchina, ti indebiti a morte, e la vai a prendere, ah, io mi ricordo, che io poi ho sempre avuto dei problemi, perché sinceramente, io adesso ho le lenti a contatto, non riesco più a toglierle, quindi sono permanenti praticamente, però ho sempre avuto gli occhiali, e voi sapete, chi ha gli occhiali di voi, due, ce ne saranno due, sapete che chi ha gli occhiali soffre, perché la donna considera l'uomo con gli occhiali, l'uomo di seconda scelta, è fallato, è vero, guarda che pasci dei magoni, io mi ricordo da ragazzino, 15 anni, ero ai giardini pubblici a Faenza, con una mia amica, stavano facendo hard petting, ci petinavano fortissimo, che lei mi ha detto, Giuseppe, cavati gli occhiali, che mi rompi le case, finessa forever, ci rimani male, poi dopo dieci minuti mi ha detto, Giuseppe, rimettiti gli occhiali, stai leccando l'erba, e allora, lì un po', però, i magoni sono quelli, dai, sono quelli, allora quando ti capita il primo appuntamento, te hai un gas addosso, che non vedi l'ora, e te vedi che l'uomo quando ha il primo appuntamento, non arriva puntuale, arriva prima, l'uomo bisognoso arriva prima, là fermo, sotto casa sua, lei ti ha visto, perché col su vai pestato la macchina dei suoi, potrebbe scendere, sì, no, no, perché la donna in quel momento vive un dramma interiore, là, davanti, non è un armadio, è l'outlet di Mantova, Castel San Pietro, che dice, non c'ho un cazzo da mettermi, vieni giù così, facciamo prima, quando scende, te ormai sei imputridito al volante, lei ti guarda e fa, è molto che aspetti, no, no, il muschio l'avevo anche ieri. Grazie. 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 Grazie.